Contrariamente a quanto facevano ipotizzare le motivazioni depositate dalla Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso contro la conferma dei domiciliari pronunciata dal riesame di potenza nei riguardi di Marcello Pittella, il GIP del Tribunale di Matera Angela Rosanettis ha rigettato l'istanza di revoca del divieto di dimora potenza presentata dai legali del Presidente che dunque resta ancora sospeso dalla carica dalla Regione Basilicata. A distanza di circa tre mesi dalla sostituzione della misura originariamente imposta con quella del divieto di dimora potenza, le residue esigenze cautelari non sono cessate in assenza di allegazione di un qualsivoglia elemento di novità idoneo alla riconsiderazione delle stesse, ha scritto il GIP nel dispositivo con cui ha rigettato l'istanza. Secondo Angela Rosanettis inoltre è ininfluente in questo senso la decisione della Suprema Corte di Cassazione dello scorso 11 dicembre, considerato infatti, ha aggiunto il giudice nel dispositivo, che la predetta sentenza annullava la decisione del Tribunale dell'esame che si era pronunciata sull'ordinanza genetica ritenendo carenze e illogicità nelle motivazioni del Tribunale in ordine alle doglianze difensive sui presupposti di applicazione della misura cautelare rinviando al Tribunale di Potenza per un nuovo esame dell'ordinanza del GIP ancora in atto. Con questa decisione presa dal GIP Materano, il governatore resta dunque sospeso in relazione alla legge Severino e le sue funzioni restano in carico alla vicepresidente e assessore regionale alla sanità Flavia Franconi.